Sì. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti a questo seminario su rotta balcanica e politiche europee di sicurezza. Io do immediatamente la parola a Roberto Antonione, segretario generale dell'iniziativa Centro Europea, per i saluti iniziali. Grazie, buongiorno a tutti. È un piacere, è anche un onore, a nome del segretariato esecutivo dell'Ince e mio personale, darvi il benvenuto, anche se in forma virtuale, a tutti i relatori e i partecipanti di questo evento che abbiamo realizzato grazie al progetto di cooperazione internazionale Western Balkans 6 Facility, che è cofinanziato dalla regione Friuli Venezia Giulia. L'obiettivo del progetto è sviluppare partenariati e reti sostenibili tra le amministrazioni e le organizzazioni statali e regionali, le organizzazioni imprenditoriali, Tintank, al fine di promuovere un trasferimento di conoscenze ed esperienze e in qualche modo rinforzare la società civile all'interno di una democrazia partecipativa, promuovendo o cercando di promuovere l'allineamento delle politiche nei settori dello Stato di diritto, dell'economia, della connettività e della società generale, della società generale civile in genere. Il supporto della regione Friuli Venezia Giulia è la continua interazione con il servizio delle relazioni internazionali e programmazione europea e per noi del segretariato dell'Ince un motivo di grande orgoglio e in qualche modo dimostra che la discussione sulle tematiche internazionali vengono seguite con attenzione e con scrupolo anche dalle autorità regionali. Consentitemi un saluto e un ringraziamento naturalmente a tutti i co-organizzatori, il Centro per la Cooperazione Internazionale, l'Osservatorio Balcani e Caucaso e naturalmente a tutti gli autorevoli relatori. Un particolare ringraziamento al CESPI, al suo direttore e il dottor Frigeri, con cui abbiamo intrapreso una collaborazione strategica sulle tematiche della sicurezza nei Balcani, coniugando le rispettive professionalità e competenze nei confronti di un'area da sempre strategica per l'Italia e per l'Europa. L'Italia vede la propria stabilità e sicurezza come legate in maniera indissolubile alla stabilità e alla sicurezza dei paesi situati sulla riva est dell'Adriatico. È proprio in questo senso che la presenza dell'On. Piero Fassino, che non so se è già arrivato o meno, ma comunque a lui desidero rivolgere un ringraziamento per la sua presenza e un saluto. Dicevo, la presenza dell'On. Piero Fassino, Presidente della Commissione Esteri della Camera dei Deputati, non solo ci onora, ma ci ricorda che l'azione dell'Italia non si è fermata nonostante questa difficile fase pandemica. Un impegno che evidentemente coinvolge anche le organizzazioni internazionali e regionali, anche sulla scorta di quel vertice sui Balcani occidentali che vide l'iniziativa centro-europea ospitare più di 50 organizzazioni della società civile nel Reflection Forum svolto a Trieste nel luglio del 2017, quando il Berlin Process era sotto presidenza italiana. In particolare quel summit ha riconosciuto che il contrasto la criminalità e la prevenzione dell'estremismo violento sono minacce comuni verso le quali è necessario un approccio ad hoc basato sulla comprensione delle realtà e su una più ampia cooperazione regionale. Le sfide comuni in materia di sicurezza sono evidenti e sono state discusse nei successivi vertici. Fra queste vi è la lotta contro il terrorismo, la radicalizzazione, gli attacchi informatici e tutto quel complesso delle cosiddette minacce ibride che pongono una sfida complessa anche ai nostri operatori. Uno degli obiettivi principali dell'iniziativa centro-europea è proprio quello di contribuire a sostenere la prospettiva europea dei Balcani occidentali e di consolidare il loro processo di adesione, garantendo che tale processo rafforzi non soltanto la cooperazione economica ma anche i valori fondamentali dello Stato di diritto. È in questa prospettiva che credo si debba convergere monitorando in maniera scrupolosa tutti gli sviluppi in atto per poter intervenire a più livelli ciascuno nei propri ruoli e nelle rispettive competenze. Sono certo che i nostri ospiti, che ringrazio ancora per aver accettato di intervenire in questo evento, ci daranno oggi un contributo importante nel raggiungere quello che credo possa essere un obiettivo comune. Quindi un augurio di buon lavoro a tutti. Grazie per la vostra attenzione. Grazie, grazie molte. Colgo l'occasione appunto per segnalare che l'onorevole Fassino per impegni istituzionali non può intervenire in questo momento ma conta di raggiungerci più tardi e interverrà appunto non appena potrà unirsi a noi. Passo quindi la parola a Daniele Frigeri, direttore del CESTI. Buongiorno, grazie Raffaella. Allora anch'io intanto mi unisco a un ringraziamento particolare appunto a tutte le persone che sono collegate in questo momento e ai nostri relatori che ci accompagneranno un po' in questa riflessione. E intendo e voglio anche ringraziare appunto l'INCE e il dottore Antonione per appunto l'opportunità di lavorare insieme e di svolgere questo progetto per noi rilevante che stiamo portando avanti insieme a un partner per noi centrale con cui abbiamo una lunga tradizione di collaborazione che è l'Osservatorio Balcani e Caucaso. E su questo consentitemi proprio una brevissima riflessione e cioè per noi è un'opportunità importante questa partnership a tre dove appunto un'organizzazione internazionale come l'INCE mette a fattor comune quelle che sono delle professionalità e delle competenze di due team tank che hanno una lunga tradizione di lavoro sui Balcani e hanno sviluppato in questi anni appunto competenze e professionalità per cui l'aver colto un po' quello che è il valore aggiunto di mettere a fattor comune quelle che sono appunto le interazioni che possono nascere attraverso la collaborazione tra due istituti di ricerca credo che sia un punto importante e di cui appunto siamo riconoscenti rispetto all'INCE e a dottor Antonione. Il tema di oggi appunto entra nel tema della rotta balcanica, si inserisce all'interno di un progetto appunto più ampio di cui parlava il dottor Antonione e si inserisce all'interno di un ciclo di due incontri che noi avremo. È il primo proprio dedicato all'approfondimento di questa di questa tematica, una tematica che non è sicuramente nuova ma che appunto nella sua drammaticità è entrata a far parte di quella che è l'attenzione dei media e in generale della politica nazionale ed europea. Questo rimanda a un tema più generale che è quello di affrontare a livello europeo quello che è il tema delle migrazioni più in generale in un'ottica più ampia tenendo conto della complessità di questo fenomeno e per questo noi abbiamo voluto appunto affrontare questo tema da più angolature. Due incontri, due seminari chiaramente non esauriscono quella che è la complessità del tema ma abbiamo scelto due eh due tematiche. Quella di oggi appunto riguarda le politiche europee di sicurezza ehm che sono eh centrali anche nel nuovo patto sull'emigrazione e asilo della della comunità europea perché qui eh si riconosce quello che è un ruolo di ricostruzione una fiducia necessaria all'interno del dell'Europa. Allora questo era eh un po' la ehm la finalità di questo incontro. Il secondo incontro sarà invece dedicato più a una ehm lettura più ampia del fenomeno delle migrazioni su questa rotta, nello specifico la rotta balcanica. Ecco io mi fermo qui, vi auguro buon lavoro eh rinnovando davvero eh il mio grazie eh a tutti quanti. Grazie molte e mh segnalo appunto che non sarà presente eh rispetto al programma ehm eh il rappresentante della regione frulli Venezia Giulia che comunque la regione appunto manda ehm i suoi saluti ehm per ehm questo seminario. Eh aggiungo poche parole sul progetto di ricerca che appunto Cespi, Osservatorio Balcani e Caucaso, Trozzo Europa, stanno sviluppando e all'interno del quale questo webinar si inserisce eh questo progetto di ricerca appunto sostenuto da da Ince si focalizza su sulla rotta balcanica in particolare stiamo cercando di approfondire eh tre aree tre ehm aree diverse insomma della rotta quindi eh un focus sull'area diciamo della Turchia e del confine con la Grecia in particolare in parte anche con la Bulgaria un focus sulla Bosnia e Herzegovina e il confine con la Croazia e un focus su appunto ehm la situazione tra Slovenia e Italia e mh con tutte le difficoltà del caso di fare ricerca eh con in tempi di pandemia evidentemente ehm però eh questo progetto di ricerca più ampio vedrà la luce probabilmente ehm per l'estate e e e all'interno del quale il seminario di oggi si inserisce. Ehm inizierei appunto dando la parola al primo dei nostri relatori ehm mi faceva piacere sottolineare che appunto eh per affrontare la tematica di oggi abbiamo coinvolto tre relatori che con anch'io l'occasione per ringraziare che portano tre prospettive diverse ehm appunto il professor Alberto Pasquero ehm dell'Università di Milano e eh che collabora anche con l'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione ehm il dottor Carlo Verdiglione che è il dirigente superiore della Polizia di Stato eh nonché project leader del progetto IPA Country in Serious Crime in the Western Balkans eh e infine ehm il dottor Thomas Miglierina che è un giornalista della ehm Radio Televisione Svizzera e che ha eh una eh diciamo attenzione specifica alle vicende eh europee e quindi riteniamo che appunto queste tre diverse prospettive potranno aiutarci a a capire meglio cosa sta eh succedendo diciamo ehm e e a identificare alcuni o o a identificare alcuni elementi che ci aiutino a diciamo eh orientarci ehm in quello che sta succedendo. Eh quindi do la parola eh al primo relatore al professore Alberto Pasquero. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte e grazie per per l'invito, grazie a Cespi, grazie a tutti gli organizzatori per l'invito che ho accetto con accettato con con grande piacere. Io ho visto il tempo limitato a nostra disposizione che mi è stato assegnato spero non me ne vorrete eh passerei subito a esaminare un po' quello che ho eh preparato per questo questo nostro incontro eh ed è un tema eh chiedo solo conferma che si veda la la presentazione sì fanno non c'è uno di sì e che è il tema di grazie a voi del dei traffici di persone lungo la la cosiddetta eh rotta balcanica. È un tema di cui ho avuto modo di di occuparmi nel corso della mia esperienza lavorativa nei Balcani da prima in Kosovo e poi a Belgrado dove ho lavorato per conto di OSCE e dell'Unione Europea. Eh innanzitutto un piccolo eh passo indietro nel tempo giusto per richiamare brevemente come eh e perché abbiamo iniziato ad occuparci eh da vicino di eh rotta balcanica con riferimento anche al fenomeno migratorio. Questa è un'immagine scattata nel duemila eh quindici un anno che ha conosciuto il più grande afflusso di eh persone dall'area eh eh ai confini orientali del dell'Europa, dalla della Turchia quindi verso i paesi del dell'Unione Europea. Un anno che è stato contrassegnato da un numero veramente molto eh elevato di eh persone eh oltre un milione di persone si stima che abbiano fatto ingresso quell'anno in Europa. Si tratta evidentemente di ingressi irregolari nel senso che si tratti di persone che non erano munite di un visto di ingresso e anche in molti casi di documenti di riconoscimento ma questo apro e chiuso parentesi è la situazione che accomuna la stragrande maggioranza di eh persone che richiede si recrano in Europa per chiedere asilo. Quello che è di che ha avuto di straordinario questo anno è appunto il numero assoluto di persone che hanno fatto ingresso. Vedete che eh sulla destra eh dalle coste turche alle isole greche e poi via via risalendo la penisola balcanica verso i paesi del dell'Unione Europea sono transitate circa si stima queste sono stima di un NHCR oltre ottocentomila persone nel solo eh anno duemila quindici. Nei eh primi mesi del duemila sedici questo flusso è eh continuato. Qui vedete le prime immagini di della eh della pressione che questo numero di persone in provenienza dalla dalla Turchia hanno iniziato a esercitare sui confini esterni dell'Unione Europea. Qui siamo in realtà al confine tra Macedonia e eh Serbia. Eh a causa proprio del 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 della flusso numerico di queste persone a un certo punto non è stato più possibile per le autorità di frontiera eh materialmente contenere il numero di eh di persone che cercavano di entrare quindi sostanzialmente si è aperto quello che di fatto è stato un grande eh corridoio di libero transito che è esistito sostanzialmente per per meno di un anno perché poi eh a inizio del duemila sedici qui vediamo intanto le varie ramificazioni che questa rotta ha partendo appunto dalla Turchia risalendo su su via via verso l'Europa. Vediamo appunto un ramo che sostanzialmente passa dalla Turchia verso la la Bulgaria e un altro ramo che dalla Turchia passa alle isole greche però tutti e due sostanzialmente eh tornano a confluire o in Macedonia o in in Serbia e poi da lì si entra nell'area Schengen che è costituita dalla eh dall'Ungheria. Ehm appunto ehm dicevo nel nel duemilasedici poi questa questa rotta ha iniziato a conoscere le prime interruzioni nel senso che già dalla fine dell'anno duemilaquindici Ungheria e Bulgaria hanno iniziato a costruire delle eh recinzioni che poi sono diventate dei veri e proprie delle vere e proprie barriere dei muri al confine mh l'Ungheria con la Serbia e la Bulgaria con la con la Turchia. Si tratta di confini terrestri di eh facile delimitazione nel senso che si tratta di territori soprattutto quello tra Ungheria e Serbia di territori pianeggianti ehm all'interno dei quali è tutto sommato semplice tirare una una recinzione ben più difficile e eh fare una un'operazione analoga ad esempio tra al confine tra Serbia e Bosnia oppure anche solo tra Bulgaria e Serbia dal momento che si tratta di zone montagnose che per ovvi motivi sono ben più difficili da controllare e da eh recintare. Che cosa succede nel duemilasedici? Lo anticipavo prima succede un evento molto politicamente geopoliticamente molto importante si arriva a un accordo tra Unione Europea e Turchia un accordo assai consistente dal punto di vista monetario si tratta di sei miliardi di eh euro che l'Unione Europea eroga alla eh Turchia tre tre dei quali sono già stati eh erogati in contraccambio appunto la Turchia si offre di gestire in modo più rigido la fuoriuscita dei ehm insomma milioni di profughi che insistono sul sul territorio turco tuttora la Turchia è un paese di grandissima ehm accoglienza di ehm della popolazione rifugiata accoglienza nel senso che eh risiedono sul suo territorio eh milioni di eh cittadini stranieri di cui una una buona parte di provenienza dal territorio siriano. Questo per quanto riguarda la prospettiva eh storica ehm sostanzialmente da quel momento la rotta balcanica viene chiusa a domino su iniziativa sostanzialmente del cancelliere eh Kurz austriaco che all'epoca era ministro degli interni eh propone ad al ai vari paesi che si trovano lungo la rotta di chiudere a cascata le rispettive frontiere e nel giro di poche settimane tutti questi paesi che fino ad allora avevano lasciato sostanzialmente per l'impossibilità di controllare il flusso eh avevano lasciato sostanzialmente i posti di frontiera eh aperti ad un transito più o meno libero dei migranti chiudono invece le loro frontiere venendo così a eh creare delle dei cul de sac io li chiamerei cioè del delle sacche in cui eh le vediamo qui evidenziate con dei cerchi in Serbia e anche in Bosnia e Herzegovina eh delle sacche alle dei paesi all'interno dei quali i migranti si trovano eh confinati e non riescono più a procedere eh oltre eh inizialmente questo fenomeno ha investito la Serbia probabilmente ricorderete l'inverno del duemilasedici queste sono le immagini che sono state trasmesse anche sui nostri telegiornali sui nostri media di migranti eh ospitati in situazioni di fortuna all'interno di vecchi capannoni abbandonati nel centro di di Belgrado oggi sono immagini simili eh che vediamo dal territorio bosniaco perché queste persone appunto non si trovano in queste condizioni perché semplicemente cercano di proseguire il loro il loro viaggio ma non riescono a ottenere un passaggio per andare oltre. L'effetto di queste chiusure è stata una drastica riduzione del numero di eh di persone che hanno transitato lungo la rotta balcanica nell'anno 2015 come vedete il grafico non è non ha una corrispondenza grafica vera vera e propria perché dovrebbe essere la barra dovrebbe essere enormemente più più lunga però appunto vedete come dal duemilasedici ancora circa centotrentamila persone sono riuscite a percorrerla ma questo numero è riferito ai soli tre mesi sostanzialmente del primi tre mesi del duemilasedici perché poi dal dall'aprile sostanzialmente del duemilasedici in avanti vedete i numeri sono crollati drasticamente. Quando parliamo di chiusure delle frontiere tra paesi confinanti della rotta balcanica parliamo di chiusure come possiamo dire relative non si tratta mai di chiusure ermetiche che impediscono il passaggio anche irregolare di persone. Quello che possiamo però sicuramente affermare è che nel momento in cui si va a rafforzare un controllo di frontiera installando dapprima ad esempio qui siamo alla frontiera Ungheria Serbia dapprima un filo spinato di nuova generazione e poi un sistema di cancellate alte circa circa tre metri quello che si sta cercando di fare ovviamente di impedire il transito ma non si riuscirà mai a impedire in modo sistematico matematico mi verrebbe da dire il il passaggio di persone. Quello che si sta facendo è certamente quello di rendere questo passaggio più difficile e di sostanzialmente al contempo creare anche una domanda di attraversamento irregolare una domanda di aiuto affinché la persona riesca a superare quella che magari di sua con le proprie forze con i propri mezzi una barriera che con le proprie forze con i propri mezzi non riuscirebbe altrimenti a superare. Ed è qui che quando appunto si crea una domanda di un bene o di un servizio che non è presente sul mercato legale ovviamente la criminalità e anche la criminalità organizzata è qui che entra in campo nel senso che come tutti ben sappiamo la criminalità anche di tipo organizzato questo fa fornisce una offerta e ha una domanda di un servizio che legale non è. Come si attua il passaggio irregolare con l'aiuto appunto del passeur o dello smuggler come dir si voglia? Si attua ovviamente in modi molto molto differenti. C'è appunto una delle modalità è quella del transito su automezzi, le persone vengono nascoste in doppi fondi o all'interno tra il materiale che viene trasportato dagli automezzi. Questa è l'immagine tristemente famosa di un camion all'interno del quale nel 2016 vennero trovate diverse decine di migranti purtroppo soffocati, morti soffocati, viene trovato su territorio austriaco questo camion in provenienza dall'Ungheria. Ma tornando all'immagine di prima l'offerta di servizi illeciti può anche consistere semplicemente nel possesso di tecnologie anche rudimentali che consentono però di agevolare il passaggio attraverso recinzioni e cancellate. Nel corso di riunioni operative con le forze dell'ordine, la polizia di frontiera di Ungheria e Serbia a cui abbia modo di partecipare ad esempio i colleghi ungheresi informavano i serbi che in qualche modo i passeur ungheresi hanno riusciti a entrare in possesso delle chiavi che aprivano alcuni punti, alcuni valichi, alcune cancellate appunto che si potevano aprire con le chiavi per i controlli di routine. Ebbene i passeur erano in qualche modo entrati in possesso di queste chiavi e grazie a queste riuscivano a fare passare dei gruppi evidentemente di numero limitato però pur sempre riuscivano a consentire l'accesso a queste persone. Si tratta com'è piuttosto evidente di servizi che debbono essere ben retribuiti e il cui prezzo è facile immaginare che cresce al crescersi sia della difficoltà da una parte quindi della tecnologia del know-how richiesto sia dall'altra parte del pericolo che lo stesso passeur corre nel momento in cui attua questa azione di tipo illegale. Faccio notare che questo tipo di attraversamento illegale delle frontiere non è certamente un fenomeno nuovo lungo la rotta balcanica e precede di molto il fenomeno migratorio. Qui vediamo un'immagine tratta da un rapporto di UNODC che raffigura la rotta balcanica sostanzialmente di tutt'altro però genere di merce tra virgolette. Si tratta qui del traffico di eroina di provenienza dalla Centrasia sostanzialmente dall'Afghanistan che però come possiamo vedere ho in mente qui guardo la rotta meridionale che passa attraverso la Turchia e come abbiamo visto per il traffico di persone dalla Turchia si sposta in Grecia e poi via via risalire lungo la penisola balcanica ed è non è così difficile immaginare che i percorsi, le rotte, le connessioni che le persone dedicate a traffici illeciti hanno stabilito nel corso degli anni e dei decenni in cui queste rotte sono state operative ben hanno potuto sfruttare lo stesso tipo di connessioni, di modalità dinamiche corruttive utilizzate in precedenza per altri tipi di beni per trasportare ai giorni nostri anche le persone. Proviamo quindi a tracciare un rapido profilo di quelle che possono essere le reti appunto criminose che si occupano del traffico di persone lungo la rotta balcanica. Innanzitutto dobbiamo tenere a mente che siamo di fronte a un fenomeno di tipo internazionale, transnazionale e quindi anche queste reti hanno dei connotati transnazionali. Si tratta non di gruppi criminali organizzati a livello internazionale, nel senso non sarebbe scorretto pensare che esista una organizzazione internazionale con branche all'interno dei vari paesi che opera questo traffico. Si tratta però di gruppi nazionali che hanno senz'altro collegamenti transnazionali tra di loro in modo da poter organizzare il passaggio di persone da un paese all'altro. Un'altra caratteristica che le indagini sia di tipo giudiziario sia di tipo giornalistico hanno evidenziato in capo a questi gruppi è il fatto che in apparenza potrebbe sembrare anche singolare della compresenza di attori locali, quindi autotoni, cittadini dei paesi di transito con cittadini dei paesi di origine dei migranti. Quando parliamo di rotta balcanica pensiamo a paesi di origine quali Afghanistan, Pakistan e altri paesi del Medio Oriente. Ebbene non è raro trovare cittadini di questi paesi che partecipano a questo tipo di traffici, i motivi sono abbastanza intuitivi, si tratta di persone che si occupano del reclutamento, dei clienti, di persone che tengono il contatto tra lo smuggler e il cliente, che dal momento che i due non necessariamente parlano la stessa lingua. Quindi questa è un'altra caratteristica che è stata evidenziata in capo a questi gruppi. Un altro dato che occorre a mio avviso in inglese viene chiamato trafficking, non è un connotato prevalente di questo tipo di traffico. È vero che in italiano c'è una sorta di ambiguità e spesso si usa anche da parte di certe politiche in modo ambivalente la parola trafficante, traffico, per riferirsi in realtà a due fenomeni che sono molto diversi tra di loro, e cioè da una parte la tratta di esseri umani, un reato molto grave contro la persona, dove la persona è vittima di un raggiro, di una coercizione e viene sfruttata. L'altra invece è lo smuggling, la cui traduzione in Italia non sarebbe altro che favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, e cioè un reato contro il confine, contro l'integrità del confine, contro gli ingressi irregolari, in cui la persona che attraverso il confine non è necessariamente una vittima che viene sfruttata, è un cliente che paga per un servizio, e lo smuggler non è necessariamente uno sfruttatore che vuole sfruttare la vittima, ma è una persona che offre un servizio illecito, intendiamoci, ma pur sempre un servizio in risposta a una domanda. Da un punto di vista investigativo ovviamente si tratta in entrambi i casi di reati che le forze dell'ordine cercano di reprimere, non senza difficoltà investigative, sia gli autori, sia i passeggeri, se così vogliamo, se mi passate il termine, parlano lingue che spesso non sono facilmente comprensibili agli investigatori, si parla di lingue poco conosciute come Urdu, Pashtu, Farsi, le persone spesso comunicano attraverso l'uso di tecnologie, neppure troppo complesse, ma semplicemente Whatsapp o altri meccanismi di comunicazione che però sono criptati e quindi non sono facilmente intercettabili come comuni comunicazioni telefoniche. Anche i pagamenti che le persone fanno ai passeur spesso avvengono attraverso modalità informali e non tracciabili. Un caso che è piuttosto noto alle cronache anche italiane perché riguarda anche il nostro paese è l'arrivo di minori stranieri non accompagnati che vengono inviati, ad esempio noi conosciamo il caso dei minori kossovari o anche i kurdi che vengono inviati in Italia dalle proprie famiglie prima del raggiungimento della maggiore età. In Italia, come tutti sapete, a partire dalla legge Zampo, un minore straniero non accompagnato ha sempre diritto a un permesso di soggiorno per minore età, è inespellibile e quindi questi minori, se arrivano prima del raggiungimento della maggiore età, attraverso appunto la rotta balcanica, sono destinati a permanere sul nostro territorio. Il tempo vedo che è tiranno e quindi mi avvio rapidamente alla conclusione, richiamando solo il fatto che come voi sapete in Bosnia quest'inverno appunto abbiamo assistito a scene di questo tipo, le persone ecco si concentrano in Bosnia, fanno particolarmente fatica a uscire dal territorio bosniaco, l'Unione Europea nella persona della guardia della polizia di frontiera, soprattutto croata, lungo questa rotta attua dei respingimenti estremamente violenti, questi fenomeni sono già stati discussi, sono stati portati all'attenzione del Parlamento europeo, recentemente anche alcuni nostri parlamentari si sono recati sul luogo proprio per condannare queste pratiche che sembra incredibile nell'Europa che si professa patria di diritti delle persone che invece sostanzialmente queste pratiche vengano tollerate, si tratta di pratiche davvero estremamente violente che sono già anche state portate all'attenzione della Corte europea dei diritti dell'uomo. Anche l'Italia attua respingimenti, non certo con queste modalità cruente, però verso il confine con la Slovenia e tutte queste pratiche fanno sostanzialmente parte del fenomeno che noi chiamiamo di esternalizzazione, cioè il cercare di impedire ai cittadini di paesi terzi di fare ingresso nel territorio dell'Unione europea dove potrebbero poi presentare domande di asilo anche a volte strumentali, però di fatto si delega a paesi terzi come appunto Bosnia, Serbia, Turchia o Libia, ma sarebbe tutto un incontro, il controllo sostanzialmente delle frontiere. Si tratta però di pratiche che se attuate su larga scala e senza avere riferimento alla situazione individuale, al caso individuale del singolo, costituiscono violazioni dei diritti dell'uomo e questo è già anche stato sancito dalla magistratura italiana. Ad esempio vi invito a leggere i commenti a questa sentenza che è stata anche richiamata dai media italiani del Tribunale di Roma che ha dichiarato appunto che nei confronti di un cittadino pakistano che era stato respinto sommariamente al confine italo-sloveno e con questo davvero chiudo ed è stato poi trasferito forzatamente fino in Bosnia, ebbene il Tribunale di Roma ha detto che a causa della violazione dei diritti che questa persona ha subito al cittadino pakistano deve essere rilasciato un visto di ingresso in Italia in modo che possa presentare la sua domanda di asilo. Io mi fermo qui, chiedo scusa se ho sforato, le cose da dire sarebbero molte, ma rimango a disposizione ovviamente per domande e chiarimenti. Grazie, grazie molte. Io tra l'altro ho dimenticato di menzionare che forse lei ci dovrà lasciare un po' prima della fine, non sappiamo, dipende per un altro impegno, volevo menzionarlo appunto perché avrei dovuto dirlo prima. La ringrazio molto di questo quadro diciamo molto ricco che ci ha fornito e anche per aver insomma ricollocato quello che sta succedendo oggi anche un po' nell'evoluzione che caratterizza questa rotta appunto dal 2015 e quindi collocare un po' i fatti anche in un contesto insomma che si è evoluto nel corso del tempo diciamo così. E io a questo punto passerei la parola al nostro secondo relatore, appunto lei ha citato a un certo punto nel suo intervento anche le difficoltà investigative che si affrontano nel gestire queste queste dinamiche e penso appunto che probabilmente il nostro prossimo relatore potrà raccontarci qualcosa a questo riguardo, comunque permetterci di capire meglio questa dimensione. Quindi passo la parola al dottor Carlo Vertiglione, dirigente superiore della Polizia di Stato e appunto project leader del progetto Country Interest Crime in the Western Balkans. Al microfono ancora sento. Perfetto, grazie. Ok, grazie, buonasera e saluto tutte le persone che sono collegate e ringrazio gli organizzatori per l'opportunità della partecipazione a questo prestigioso seminario. Io purtroppo non mi avvarrò della proiezione di slide, quindi cercherò di fare in modo di non essere portatore sano di torture post-prandiale. Farò del mio meglio. Partirei da una constatazione. Ovviamente la situazione che riscontriamo oggi nell'area balcanica non può non essere considerata come il prodotto della della sua storia ed in particolare della storia dei popoli che o vi hanno abitato o eh l'hanno invasa per periodi di tempo più o meno lunghi. E da questo punto di vista la regione balcanica ha una storia estremamente interessante perché caratterizzata da guerre, occupazioni militari, tensioni politiche, etniche e religiose. Brevemente ehm basta citare al fatto che ehm alle difficoltà con cui già l'impero romano ehm dovette affrontare la penetrazione nella provincia dell'Illiria, della Pannonia, della Macedonia. Basti citare la decadenza dell'impero romano che aprì la strada all'occupazione dei popoli slavi e slavizzati, la dominazione turco-ottomana, le prime guerre balcaniche del millenovecentododici-tredici, l'influenza esercitata sull'area dalle maggiori potenze europee ed in particolare dalla Russia e e dall'Austria fino ad arrivare ad eventi più recenti, gli effetti delle due guerre mondiali, la Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia e le note guerre ehm Jugoslavie che si sono combattute in in tempi più recenti. Questo per dire appunto che la regione è prodotto di un di un kaleidoscopio di accadimenti e di eventi e non a caso in geopolitica è stato coniato il il neologismo di balcanizzazione ad individuare proprio un fenomeno caratterizzato da una perdurante instabilità e da una eh forti spinte eh centrifughe. Tutto ciò ovviamente ha una ricaduta e ha un impatto notevole anche sui fenomeni criminali che caratterizzano il contesto il contesto territoriale. Eh come si accennava prima facilitati da fattori endogeni ed anche esogeni tra i quali in primis anche il persistente uso delle eh dei sistemi informatici e di internet. Oggi i gruppi criminali hanno strutturato la loro organizzazione in forma sempre più flessibile, capace di adottarsi, di adattarsi a contesti situazionali, eh di permeare le maglie dell'economia legale. Quindi costituendo sodalizi che sono tra di loro interconnessi e che ehm esercitano azioni criminose in diversi ambiti. Quindi non sono focalizzati solo su un su un ambito su un ambito criminale. E ovviamente eh questo ha fatto sì che nell'area eh siano presenti come si accennava prima diverse fenomenologie criminali. Alcune sono state menzionate, altre sono il traffico di stupefacenti, il traffico di armi che è molto eh sentito perché appunto è il retaggio delle guerre che si sono combattute eh recentemente. Ora io nel mio intervento non eh accennerò molto di più a questi fenomeni criminali. Tenterò invece di focalizzarmi su quali sono le strategie della prevenzione per il contrasto eh delle delle reti criminali anche nell'area nell'area balcanica. Ed in questo senso consentitemi di introdurre un concetto fondamentale. Oggi per prevenire e contrastare i network criminali occorre costituire network di cooperazione. Sembra un un concetto scontato ma così non lo è. Al di fuori di questa logica o si entra nello spirito di avventura o trova applicazione alla massima di Seneca per la quale non vi saranno mai eventi favorevoli per chi non sa dove andare. La cooperazione eh rappresenta l'elemento fondante, l'elemento più importante per prevenire e contrastare i fenomeni criminali nell'area dei Balcani. Ma questo termine dà il significato anche abbastanza scontato. Come si declina dal punto di vista pratico? Ehm innanzitutto un cenno va fatto a tutti quegli apparati che concretizzano, realizzano le forme di cooperazione multilaterale. In questo senso non posso non citare l'Agenzia Europea di Polizia e Europol e l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale Interpol. La prima come hub per la raccolta e l'analisi di dati provenienti dai paesi dell'Unione ma non solo dai paesi dell'Unione. La seconda che è nata in periodo molto più eh molto meno recente diciamo oggi raggruppa centonovantaquattro paesi che condividono metodologie, procedure operative, partecipazione a progetti regionali ed internazionali ma soprattutto la condivisione la condivisione delle banche dati. Ehm il funzionamento di queste agenzie e di queste organizzazioni sembrerebbe indicare una direzione della cooperazione internazionale di polizia di tipo centrifugo. Infatti gli stati membri ehm invertono la naturale passata tendenza a detenere gelosamente le informazioni eh invece passando a metterle a fattor comune per trarre poi maggiore vantaggio ovviamente dalla possibilità di disporre di un contenitore molto più ampio di informazioni per i propri riscontri per le investigazioni e per e per i provvedimenti per i provvedimenti da emettere. Questo è un elemento fondamentale. Un altro esempio di ehm metodologia utilizzata per la prevenzione del contrasto delle reti criminali eh è quella del del della rete degli esperti per la sicurezza eh di cui oggi si avvalgono diciamo quasi tutti i stati anche i paesi balcani i balcani ci stanno sviluppando la loro rete di esperti per la sicurezza. Si tratta di funzionari che nel nostro caso sono incardinati nella direzione centrale della polizia criminale che io rappresento sono terminali informativi del dipartimento della pubblica sicurezza ma soprattutto sono dei facilitatori della cooperazione internazionale. Facilitatori sia attraverso il dialogo diretto con i collaterali dei paesi dove operano ma sia perché essi rappresentano anche il diatico per la negoziazione la definizione di accordi di memorandum of understanding di intese tecniche che rappresentano poi la cornice giuridica che consente la cooperazione internazionale di polizia. Sinora ho fatto accenno a due metodologie eh espressione di strategia di prevenzione di contrasto che hanno una direzione centrifuga ma a questo punto la domanda è ma c'è anche una metodologia che invece si dirige in senso centripeto eh e in questo senso la risposta è affermativa cioè la nuova frontiera delle metodologie di prevenzione e contrasto consente di introdurre un concetto molto importante che è il concetto di eh Spock diciamo che sarebbe la traduzione di single point of contact cioè punto di contatto centrale. Che cos'è il punto di contatto centrale? Perché è importante nella nella azione di prevenzione e contrasto? Il punto di contatto centrale può essere considerato un ambiente operativo, una sala operativa, un'unità organica che materialmente funge da per lo scambio delle informazioni e dei dati di polizia. Quindi sia fluidificando le informazioni che richieste dai collaterali esteri vengono acquisite dagli stakeholder nazionali ovvero attraverso l'interrogazione delle nostre banche dati sia agendo esattamente al contrario cioè eh inviando alle nostre articolazioni sul territorio tutte le informazioni che vengono trasmesse quotidianamente dal dall'estero. In questo l'Italia è stato un paese diciamo all'avanguardia, pioniere. Noi ci siamo dotati di una sala operativa internazionale diversi anni fa e lo abbiamo fatto mettendo diciamo seduti in un ambiente persone che sono in grado ovviamente di parlare almeno una delle lingue di Interpol ma che nello stesso ambiente hanno la possibilità di interrogare tutte le banche dati nazionali ed internazionali e questo non è una poca cosa. Ma abbiamo fatto anche di più come Italia e abbiamo realizzato un progetto che attraverso l'interoperabilità dei sistemi e l'interconnessione delle banche dati ha consentito di poter elevare in maniera esponenziale le interrogazioni sulle banche dati di Interpol e di Europol e questo non è fine a se stesso perché la riquaduta di tutto questo è stata un'impennata anche dei provvedimenti di polizia sia sul territorio sia in frontiera. Quindi c'è è stato una iniziativa molto importante. Adesso diciamo cerchiamo di calare questo però nel contesto di riferimento cioè dell'area dei Balcani perché voglio dire questo genere di iniziativa lo sviluppo del concetto del single point of contact fine a se stesso lascia il tempo che trova però l'esportazione di questo modello all'estero e segnatamente quindi nei paesi balcanici consente di pervenire ad un sistema integrato veramente efficace perché ovviamente in questo tema tutti insegnano che non ci si può permettere più il riferimento alla sovranità nazionale ai confini geografici. Si diceva prima la criminalità organizzata agisce a livello transnazionale quindi noi dobbiamo cercare di creare dei sistemi integrati che adottino le stesse metodologie e siano in grado non solo di rappresentare un modello utile per la trasmissione delle informazioni di polizia ma siano anche in grado di fornire una lettura comparata del degli eventi di fornire di fornire elementi per un'analisi e di fornire un'analisi che possa essere anche in chiave predittiva cioè darci quali sono le tendenze degli eventi e come facciamo cosa abbiamo fatto noi come Italia per esportare questo modello anche nell'area balcanica. Innanzitutto abbiamo proposto il tema in tutti i fori strategici tematici lo abbiamo fatto per esempio nel foro di Roma che è la riunione periodica dei capi della polizia di tutti i paesi dell'area balcanica che viene organizzata proprio dall'Italia proprio dal dipartimento della pubblica sicurezza ma abbiamo portato questo tema dello sviluppo dei single point of contact a livello non solo europeo ma a livello internazionale su tutti gli altri fora di riferimento l'Italia poi guida anche dei progetti tematici su questo e uno dei progetti più importanti per esempio il progetto Atena. Atena è un acronimo che si declina in address training to create a hub in the European Network of Law Enforcement Agencies che è tradotto per quelli che come me fanno parte dell'associazione vittima dell'acronimo vuol dire mettiamo la formazione al centro per creare un sistema di single point of contact che adottino le stesse metodologie e le stesse procedure in modo tale da parlare lo stesso linguaggio e rendere i flussi informativi immediati tempestivi completi e qualificati. Questo è la vera frontiera. Oggi la lotta, il contrasto alle reti criminali si realizza attraverso delle metodologie anche di tipo tradizionale ma la vera frontiera sta nel creare una linea Maginot fatta di controlli, di verifiche, di riscontri incrociati sulle banche dati internazionali perché in cui ecco proprio i single point of contact rappresentano i punti nevralgici per lo per lo scambio delle informazioni ma oltre diciamo alla alla proposizione di questo tema nei foro tematici oltre alla partecipazione ad a progetti europei il dipartimento della pubblica sicurezza lo menzionava lei prima conduce un progetto che si chiama Counter Serious Crime in Western Balkan e allora la premessa è che ovviamente l'Unione Europea sostiene il processo di allineamento al sistema unionale dei paesi candidati o potenziali candidati e lo fa attraverso uno strumento che si chiama IPA che sta per Instrument of Preaccess è uno strumento di carattere molto generale che porta finanziamenti cospicui e da una durata settennale ha avuto origine nel 2007 il primo settennato è terminato nel 2013 il secondo ha avuto una durata dal 2014 al 2020 e adesso diciamo siamo in nell'arco temporale di IPA3 ecco nella diciamo cornice di questa macro iniziativa dell'Unione Europea il progetto da me rappresentato Albania, Bosnia e Herzegovina, Kosovo, Nord Macedonia, Montenegro e Serbia nella loro azione per il superamento delle barriere degli ostacoli all'accesso dell'Unione nell'Unione Europea legate alla lotta e alla prevenzione al crimine organizzato e al terrorismo. Io vorrei dire tante altre cose perché poi per me è un tema assolutamente stimolante ma credo che il tempo che mi è stato che mi è stato concesso stia per scadere. Vorrei fare solo un ultimo accenno ad un ad un'ulteriore metodologia, ad un'ulteriore filosofia nell'approccio verso queste tematiche. Oggi si parla molto di intelligence led policing approach. Che cosa vuol dire? Vuol dire che le operazioni di polizia, le iniziative non sono originate dal caso o da decisioni poco ponderate sulla base di elementi informativi poco strutturati. Oggi c'è un approccio basato sull'intelligence e vuol dire elaborare documenti analitici importanti che evidenziano quali sono le organizzazioni, quali sono gli assetti criminali, quali sono gli elementi facilitatori, gli indicatori. Questo a livello europeo si chiama SOCTA, ossia Serious Organized Crime Threat Assessment. Nei paesi balcanici, dei balcani si chiamano Threat Assessment Nazionali, ci sono poi dei centri e delle organizzazioni di carattere regionale che sviluppano a loro volta dei documenti analitici che diciamo fanno riferimento all'area geografica data dalla somma dei territori dei paesi che aderiscono a queste organizzazioni. Si tratta di un'iniziativa molto importante, di un passaggio molto importante perché poi sulla base di questi documenti strategici che si realizzano diciamo e che si concepiscono le iniziative per la prevenzione e il contrasto alle reti criminali. Io ringrazio ancora tutti, spero di essere stato il più possibile diciamo esaustivo nella mia esposizione e cedo nuovamente la parola a lei dottoressa. Grazie, grazie molte e grazie dell'intervento, diciamo che ci ho fornito un quadro appunto anche dell'operatività delle varie reti che operano in questo ambito del contrasto diciamo della criminalità e mi rendo conto appunto che il tempo che vi abbiamo dato è limitato per tematiche così ricche. Purtroppo però appunto abbiamo scelto di fare un po' un overview da diversi punti di vista e quindi appunto con questo spirito passo la parola al nostro ultimo relatore, il dottor Thomas Miglierina, giornalista della radio televisione svizzera con ampia esperienza diciamo sui Balcani e sulle questioni europee al quale appunto abbiamo chiesto anche di eh fornirci un po' un un racconto di quello che si sta muovendo a Bruxelles su eh su queste tematiche insomma ehm e quindi passo passo a lei la parola. Buongiorno ringrazio anch'io per l'invito che mi è stato rivolto per la possibilità di ascoltare gli interventi che mi hanno preceduto spero di essere all'altezza della loro eh qualità sarò eh molto rapido perché vorrei lasciare spazio alle domande e poi possiamo approfondire dei temi che vi eh interessano. Non vi stupisca un giornalista della stampa svizzera tra l'altro sono italiano ma eh con la con la Svizzera da molti anni e da vent'anni all'Unione Europea la Svizzera è associata ai sistemi eh Schengen e Dublino senza diritto di voto ma con un posto a tavola eh a tutti i livelli in tutti i fori in cui eh si eh discute di regole e in cambio quando una ehm decisione europea quando un atto legislativo europeo rappresenta un'evoluzione del diritto eh Schengen è eh obbligata a seguirlo. Vorrei eh cominciare mostrandovi una cartina che viene dalla ehm dall'ufficio europeo di supporto all'asilo, le ASO. Eh sono statistiche che si riferiscono al duemilaventi che sono uscite il diciotto febbraio e che riguardano tutta l'Unione Europea e eh dintorni quindi UE e paesi associati al sistema. Sono dati globali con forti differenze eh tra paesi in paesi ma complessivamente possiamo dire che nei primi dieci mesi del duemilaventi eh c'è stata una riduzione del trentatré per cento nelle domande d'asilo rispetto al duemiladiciannove e c'è stata una riduzione dei casi eh aperti eh di asilo alla fine del duemilaventi. Il covid ha in altre parole ridotto gli eh arrivi in certi casi anche eh grandemente ridotto per esempio alla frontiera tra eh Turchia e Grecia si registra un meno settantacattro per cento. Gli apparati dello Stato hanno però continuato a lavorare e quindi la lista d'attesa, il backlog eh di quelle che erano le domande d'asilo eh aperte si sono ridotte. L'altra cosa che eh cambiata il covid ha fatto passare nell'opinione pubblica la questione migrazione in secondo piano, lo indicano i sondaggi, le preoccupazioni oggi sono altre, sono sparite le immagini di migranti dai teleschermi con qualche eccezione di cui parlerò, sono state sostituite da immagini di terapie intensive, di vaccini, di confinamenti, l'agenda eh informativa e il dibattito sui social sono cambiati anche l'agenda direi dei eh dei politici. La nuova strategia UE sulla migrazione, il new pact on migration and asylum è eh stata presentata il ventitré settembre scorso. Eh è già stato oggetto di confronti importanti eh a livello di eh stati membri del del UE per esempio un vertice dei ministri all'interno il quattordici dicembre eh scorso. Tre punti principali della proposta. Una procedura più veloce per i rimpatri, quindi chi sbarca sulle coste europee sarà sottoposto a un primo screening e se è chiaro che se le sue possibilità di avere l'asilo sono scarse il suo caso sarà trattato direttamente al confine mentre eh alloggia in in campi e ha una risposta negativa deve seguire un un rimpatrio rapido. Secondo punto ogni stato dovrà mostrare solidarietà ma prendere in carico dei richiedenti asilo sarà solo uno dei modi possibili. Ci si potrà per esempio fare in carico del rimpatrio di quelli da espellere e solo in caso di conclamata emergenza Bruxelles potrà forzare la mano alle capitali. E infine la dimensione esterna molto importante se ne parlerà tra l'altro il prossimo quindici marzo ad un ehm consiglio dell'Unione Europea Giambo con ministri degli interni e ministri degli S la dimensione esterna la cooperazione con i paesi di transito e di origine che a volte poi sono gli stessi dovranno cooperare se vogliono continuare a eh ricevere aiuti eh ovviamente non l'umanitario ma diciamo se vogliono condividere le strategie di eh eh di sviluppo eh dell'Unione Europea. I critici parlano di ricatti, la commissione respinge l'accusa e preferisce parlare di partenariati mutualmente eh benefici. Eh il pacchetto sulla riforma migratoria è molto atteso, il dibattito ha conosciuto un'accelerazione con la crisi del duemilaquindici ma durava già eh da da prima. la commissione europea insiste molto sul concetto di eh ripartire da zero. Eh il vicepresidente che si occupa di questo dossier è Margaritis Schinas, altri non era che il portavoce della precedente commissione presiduta da Juncker e ammette che l'approccio della precedente commissione non ha eh funzionato. Di fatto questa eh strategia mette molta enfasi su controlli, su rimpatri, sui partenariati eh con i paesi terzi ma eh c'è eh molto poco sulla ripartizione dei migranti. Scusate sto cercando di saltare per rispettare i eh i tempi. Eh ad un certo punto, tra l'altro l'idea non è nuova quella di forme flessibili di solidarietà. Ad un certo punto Juncker aveva proposto che si sarebbe potuto pagare, pagare molto invece di prendere richiedenti asilo va detto a difesa della commissione che non ci sono molti modi di eh risolvere eh questa questione. Eh ma dunque se se immaginatevi un un seggiolino con tre con tre gambe. La gamba respingimenti, tutela dei confini, protezione è molto sviluppata e ne parleremo dopo. La gamba solidarietà è molto più corta e c'è una gamba che è ancora più corta ma è praticamente inesistente pur ammettendo la commissione eh dell'importanza di di avere questa terza gamba ed è eh l'immigrazione legale. Gli stati non vogliono entrare in materia. Intanto c'è una questione molto evidente di eh sovranità su chi fai entrare nel tuo territorio soprattutto a chi concedi in prospettiva la possibilità di diventare tuo cittadino. Pensate che persino in Svizzera o negli Stati Uniti la questione della cittadinanza di fatto è gestita dagli dagli stati. Non si può essere cittadini eh americani o svizzeri senza essere cittadini di un di un cantone. E poi la questione della migrazione legale ne parleremo poi se volete è un argomento tossico. Nessuno vuole eh veramente eh discuterne anche se ci sarebbero eh motivi eh importanti di eh farlo. Ci sono alcuni programmi bilaterali che riguardano la migrazione legale ma solitamente con paesi che ogni paese considera come dire il suo stretto vicinato. Per esempio ci sono programmi di immigrazione legale per i cittadini ucraini in Polonia. Paesi che come sappiamo fa parte del fronte viscegrado cioè di quelli contrari a una messa in comune del del fardello migratorio dei richiedenti asilo. Va detto anche lì che dietro l'opposizione dei viscegrado in realtà si celano altri che non hanno bisogno di esplicitare le loro contrarietà visto che già ci sono i viscegrado a eh eh farlo. Questo questo migration eh pact è già diventato una una sorta di 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 mela avvelenata eh all'Italia non piace la posizione italiana in questi mesi si è ehm se possibile indurita diventata ancora più eh più dura. L'ultima riunione informale dei ministri dell'interno il ventotto gennaio duemila ventuno la ministra Lamorgese ha detto la presidenza portoghese si faccia garante di un'effettiva eh ripartizione. Lamorgese è eh molto dura e molto anche piuttosto emotiva sulla questione quando parla ne parla molto mi dicono le mie eh fonti che partecipano ai ai consigli. L'Italia si rifiuta di di andare avanti con la discussione se non ci sarà un'effettiva ripartizione di chi arriva. I paesi eh dicono invece di di non volerne eh parlare. Si è registrata molta attenzione mediatica in queste settimane specialmente in Italia ma non solo sulla rotta balcanica per via della situazione in Bosnia e e di quanto succede al confine con la Croazia. Eh c'è stata anche una visita di parlamentari italiani fermati dalla polizia croata il trenta gennaio mentre cercavano di varcare il confine e visitare i campi in Bosnia. La cosa mi ha un po' sorpreso perché in realtà il problema dura da tempo. Gli eh esperti di cose balcaniche ne parlavano da mesi. Ricordo che la questione eh già era posta all'inizio della presidenza croata all'inizio del duemila eh venti. Segnalo che su queste cose e ho chiesto conferma ai miei colleghi croati prima di dirvelo in realtà non c'è dibattito in Croazia. Cioè la questione dei migranti e del trattamento dei migranti da parte della polizia croata al di là di qualche eh ONG in realtà non fa eh molto eh molta discussione. La commissaria agli affari interni della Unione Europea eh Ilva Johansson si è recata in Bosnia il diciotto eh dal diciotto al venti febbraio scorso ha bacchettato le autorità bosnia che l'Unione Europea afferma di avere dato al eh Bosnia dal duemiladiciotto oltre ottantotto milioni di euro direttamente o attraverso partner internazionali. In realtà gran parte dei soldi vengono dati ai partner internazionali perché l'Unione Europea anche se non lo dice si fida poco eh della eh Bosnia e dei suoi eh molti ehm troppi governi. Inoltre eh molti criticano quello che è sostanzialmente un approccio emergenziale, un tamponamento di 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 falle ma non una una strategia di eh lungo periodo. Eh dicevo ottantotto ottantotto milioni di euro, tra l'altro è sempre complicato fare i conti perché ci sono aiuti umanitari, fondi per la gestione delle frontiere della migrazione, programmi regionali riservati ai Balcani occidentali alla eh Turchia. Il problema di fondo e lo dico con una certa con un certo rammarico perché eh tanti anni fa sono stato anche nel novantasei funzionario dell'OSCE in Bosnia e Herzegovina organizziamo le prime elezioni dopo la guerra. Gli accordi di Dayton pensavo allora e penso ancora oggi sono stati molto utili per eh per fermare la la guerra ma hanno prodotto uno stato ahimè eh disfunzionale e poi se volete ne ne parliamo eh in in dettaglio. Detto questo è probabile che le cose continueranno così cioè continuerà questa dialettica tra parole dure e eh finanziamenti diversi alcuni paesi tra l'altro spingono per aumentare il supporto alla Bosnia e Herzegovina tra questi c'è eh l'Austria. Il dato di fondo però è che ehm lui ha perso non poco potere contrattuale a livello politico nei eh Balcani perché è chiaro a tutti che la prospettiva dell'allargamento non è per domani eh e nemmeno per per dopodomani. Certo ci sono molte cose che l'Unione Europea può fare eh per i Balcani ci sono molte cose che i Balcani tengono dai visti che oggi non esistono notane per il Kosovo eh alla alla partecipazione al mercato interno ma una partecipazione politica eh sicuramente non eh in in agenda. Ultimo punto eh imprescindibile poi lascio spazio a alle domande che spero ci saranno. Il il volé che forse vi interessa di più eh il volé eh prevenzione e sicurezza ehm Frontex eh l'agenzia ehm per le frontiere esterne dell'Unione Europea creata il ventisei ottobre duemilaquattro diventata agenzia europea per le frontiere e la guardia costiera nel duemilasedici nel duemiladiciotto nonostante fossero già in capo le domande d'asilo Juncker propone di dotarla di diecimila uomini in dieci anni i propri mezzi navi, aeree, veicoli un tentativo di ammansire i vicegradi duri forse in ogni caso non ha eh funzionato. Nel duemiladiciannove nuovo regolamento che ha creato non solo non accanto a quelli che erano già eh i i contingenti nazionali distaccati ha creato per la prima volta eh una una riserva di reazione rapida con propri agenti armati e il diciassette gennaio scorso ve la faccio vedere è stata presentata spero che la vediate un secondo la la eccola qua questa è l'uniforme di Frontex quindi prossimamente alle frontiere esterne dell'Unione Europea ci saranno eh uomini armati con questa ehm eh divisa è un passo simbolico molto importante tenete presente che nemmeno eh le istituzioni europee hanno una loro polizia vengono difese da da agenti di vigilanza eh privata. Il meccanismo eh nuovo meccanismo di Frontex è abbastanza complesso da raccontare ma in sintesi gli stati ovviamente mantengono il diritto di rifiutare eh l'assistenza di Frontex anche quando l'agenzia eh nelle sue analisi stabilisce che eh uno stato non ce la fa da solo però a questo punto eh gli altri stati sono liberi di rimettere eh controlli alle alle frontiere interne eh scende. Frontex è la grande vincitrice del negoziato di bilancio ehm della dell'anno scorso un negoziato che per mettere d'accordo tutti compreso i cosiddetti paesi frugali e in più creare il fondo il record fund ha tagliato praticamente quasi tutto quello che si faccia di genuinamente europeo eh da Erasmus ai programmi di ricerca ma se c'è una cosa dove non si è tagliato dove anzi il bilancio adesso parliamo di eh cinque virgola quattordici miliardi di euro nei prossimi sette anni ehm dicevo se c'è una cosa che non è stata tagliata è il il bilancio di Frontex e un'agenzia così grande così importante non poteva non diventare oggetto di dibattito politico. In sintesi Frontex è accusata di essere troppo grossa troppo vicina all'industria europea della difesa troppo indipendente e in effetti caso più unico che raro i poteri della commissione su Frontex sono molto limitati troppo poco trasparente l'ombudsman il difensore civico europeo ha aperto una richiesta avere collaborato ai respingimenti di migranti eh tra eh Turchia e Grecia ci sarà tra l'altro un management board eh venerdì dedicato alla questione ho ho ricevuto questa mattina in anteprima il il rapporto non è chiaro se abbiano veramente partecipato ma potrebbero in qualche modo aver coperto diciamo così la la polizia eh greca il Parlamento ha creato un comitato di inchiesta che è meno di una commissione di inchiesta e che domani ascolterà a porte chiuse il direttore di Frontex Fabrice Leggeri c'è uno scontro in atto all'interno della stessa eh commissione eh europea l'agenzia ha deciso di ritirarsi dall'Ungheria per non correre il rischio di ritrovarsi di fatto implicata nei respingimenti che l'Ungheria attua al confine eh con la 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 Serbia eh personalmente ho l'impressione che la sedia di Fabrice Leggeri il direttore generale eh con solidi agganci all'Eliseo sia un po' traballante lo vedremo ma quello che comunque non è traballante è eh il futuro di di Frontex che anzi avrà eh prossimamente anche nuove competenze legate non solo ai controlli alle frontiere ma al al terrorismo alla sicurezza ospiterà per esempio il server eh informatico del ehm passenger locator form cioè di quel sistema alternativo ai visti per di registrazione di tracciamento di 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 cittadini di paesi terzi che entrano e escono ehm dall'Unione eh europea quindi direi su questo fronte le cose procedono eh speditamente e solo per una questione di tempo non cito eh la trasformazione di Europol in una sorta di FBI eh europea eccetera ma questo non risolve il problema della solidarietà e il problema del della migrazione legale. Cosa succederà eh nei prossimi mesi? Le prossime presidenze UE sono in ordine della Slovenia dove il primo ministro è di fatto un membro del 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 gruppo di vicegrado comunque molto vicino alle posizioni di Orban eh poi ci sarà la Francia che ha le che va alle presidenziali nell'aprile duemilaventidue. In Germania la campagna elettorale è di fatto già iniziata. Tutti gli attacchi che vedete a von der Leyen sulla questione dei vaccini in realtà sono eh rispondo ad un dibattito politico interno tedesco che è già eh molto acceso. La Germania ha perso tempo sulla riforma eh di Dublino durante il suo semestre. Chissà quale governo arriverà eh in autunno. Chissà che un governo che non ci sia in Germania un governo eh rosso verde ma alla fine è chiaro che eh qualsiasi il grosso di qualsiasi eh ripartizione di migranti verrà fatto se verrà fatto da eh Francia e Germania. E con questo concludo. Grazie. Grazie molte eh per questo rapido ma esaustivo panorama di quello che si sta muovendo sul tema. Effettivamente ci sono ehm molti spunti diciamo così ehm anche su eh le prospettive insomma che che si stanno mettendo in campo a livello di Unione Europea e questo questo rafforzamento di Frontex non avevo visto la non avevo ancora mai visto la divisa che che ci ha mostrato ehm e che ha effettivamente un forte valore simbolico. Ehm dunque abbiamo raccolto eh alcune domande ehm e diciamo ce n'è una in particolare che eh sulla quale forse potremmo eh fare un un piccolo giro diciamo per raccogliere le vostre diverse prospettive eh che è relativa ai corridoi umanitari e diciamo eh l'idea appunto di di creare dei ehm dei corridoi umanitari e e diciamo affrontare quindi eh quello che lei adesso dottor Miglierina sul tema appunto dell'immigrazione legale ci diceva che è un tema comunque tossico che non si che non eh diciamo non non viene affrontato ehm eh molto ecco a Bruxelles ehm però diciamo l'idea visto che ci sono queste sacche no? In questi paesi appunto come vengono definite nella domanda eh di persone in fase di di diciamo di installo quindi eh secondo voi appunto mh perché da un lato non si è riusciti finora a creare e e se cosa pensate appunto di questo tema anche rispetto un po' al 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 tipo di effetto che potrebbe avere in termini di chiaramente di chiaramente della della situazione generale ehm chiedo prima al dottor Pasquero vado in ordine al professor Pasquero e in ordine dei tre dei tre relatori. Sì sì va bene eh ma eh la risposta in realtà non è non è così difficile perché è solo una questione di volontà politica cioè non si fanno questi corridoi umanitari per gli stessi motivi per cui come ricordava bene Thomas Miglierina ora si danno quattro miliardi di euro a fronte cioè tenere le persone lontane dal territorio. Questo creare un corridoio umanitario non è tra l'altro un tema per il quale sarebbe necessario un accordo in seno all'Unione Europea lo potrebbe tranquillamente fare unilateralmente qualsiasi stato membro dell'Unione Europea. Basterebbe che appunto si impegnasse a fornire un visto d'ingresso alle persone alle qualche migliaia di persone che si trova ora al confine tra Bosnia e Croazia. Queste persone potrebbero tranquillamente fare ingresso in Italia, in Germania, in Austria, in qualsiasi paese dell'Unione Europea. Potrebbe essere rilasciato un visto umanitario come è previsto dal codice dei visti Schengen senza nessun problema. Se non si fa è perché tutti i paesi dell'Unione Europea in questo momento pensano di avere già fin troppi cittadini di paesi terzi sul loro sul proprio territorio. È tutta una questione politica, non c'è nessun tipo di ostacolo tecnico o giuridico, insomma. Scusate, ecco. Dottor Verdiglione, non so se su questo tema vuole... No, io in realtà su questo tema ho ben poco da dire, insomma, perché la prospettiva del mio incarico non mi porta, insomma, a fare le valutazioni, essendo, diciamo, la mia prospettiva più collegata ad un'azione che si indirizza verso i facilitatori, va a contrastare i facilitatori dell'immigrazione irregolare e quindi tutte le reti criminali che, insomma, sono intorno a questo network. Per cui, come diceva il precedente relatore, la risposta è di natura prevalentemente politica, quindi non ho nulla da aggiungere. Dottor Miglierina? Sì, allora, intanto avete capito che mi piacciono i numeri e posso dirvi che quel poco di ricollocamenti che si faceva nell'Unione Europea da, per essere precisi, di resettlement che si faceva nell'Unione Europea si è ridotto tantissimo, da 35.000 nel 2019 a poco più di 9.000 l'anno scorso. È stato citato il caso dell'accordo con la Turchia e dei 3 miliardi, un rapporto che, come sapete, è tutt'altro che facile quello con la Turchia per l'imprevedibilità di Erdogan che alterna momenti di grande conflittualità con l'Unione Europea, momenti di maggiore cooperazione. Poi è un paese che ha un'economia in questo momento particolarmente difficile, quindi la situazione, come dicevo, alla frontiera Grecia-Turchia in questo momento è buona, ma chissà cosa succederà in futuro, sono aree di grande instabilità. Ecco, semplicemente non riesco a immaginare una dinamica politica che possa condurre ad un risultato favorevole all'immigrazione legale, tranne quando si tratta appunto di persone che la popolazione vive più o meno come a sé molto vicine. Citavo prima gli ucraini, la forte presenza dei cittadini ucraini in Polonia, che sono diventati a un certo punto anche un bisogno per l'economia, perché quando la Polonia è entrata all'Unione Europea, nel giro di pochi anni, tantissime persone sono partite per il resto dell'Unione Europea, al punto che non si trovavano quasi più persone disposte a lavorare in Polonia, ci sono anche scambi bilaterali in alcuni paesi dell'esco, i paesi asiatici. Qui non credo che, potremmo fare l'enumerazione delle argomentazioni razionali, no? L'Unione Europea sono 450 milioni di persone, prima della Brexit eravamo 510, quindi se anche arrivano un milione di persone, sembra una cifra enorme, in realtà ogni anno muoiono di causa naturale 2 milioni di persone, il saldo demografico europeo è tenuto dall'immigrazione, i paesi dell'est, a cominciare dalla Croazia, dall'Ungheria, buona parte dei Balcani, sono in fortissimo calo demografico, dalla Romania sono partiti in milioni per venire a lavorare in Italia, in Svizzera, altrove. Questi paesi avranno problemi di sostenibilità dei sistemi pensionistici. Sono paesi che, insomma, c'è una comunanza di fede musulmana tra i bosniaci di Bija c'è alcuni di questi profughi che però non ha portato mi sembra a grandissime forme di solidarietà. Ricordo nel 2015 mi aveva anche sorpreso la posizione della chiesa ortodossa serba, che non è esattamente la più filo islamica delle organizzazioni che si possa pensare, che aveva fatto un appello ad essere generosi perché diceva anche noi serbi abbiamo conosciuto la guerra e la... ma queste cose più l'eccezione che la regola. In Ungheria poi ci sono stato varie volte, me ne sono occupato e mi afferma convinzione che Orban abbia utilizzato, essendo persona molto intelligente, la questione della migrazione abbia fatto un uso politico e che sia uno dei motivi per cui continuo a godere di di un vero consenso. La creazione di una barriera alla frontiera con la Serbia, tra l'altro da un punto di vista economico è keynesianismo puro, cioè ha dato non poco lavoro, ha fatto anche girare l'economia, ma soprattutto ha offerto nella mentalità, nella visione dell'ungherese e medio, corroborata da media che sono molto vicini alla posizione di governo, ha fornito l'idea di qualcuno che protegge il paese e ogni conflitto con l'Unione Europea su questioni come lo Stato di diritto, la corruzione eccetera, viene presentato come Bruxelles, dove comanda Soros, vuole costringerci ad accogliere i migranti e quindi non vedo per quale motivo, anche da un punto di vista proprio di puro calcolo politico, l'attuale governo inglese dovrebbe cambiare posizione in materia di, non solo di migrazione legale, ma anche solo di solidarietà, di ripartizione di chi sbarcha in Italia. Perfetto, c'è un'altra domanda che posso portare a chi vuole rispondere, in cui viene chiesto che dal momento che c'è appunto questa esternalizzazione in atto, in qualche modo dei controlli alle frontiere, in che modo rispetto a questo vengono gestiti i resettlement, se non dovrebbero essere rafforzati. Non so chi eventualmente vuole rispondere su questo punto. Giusto perché mi ero dimenticato nella miriade di cose che volevo dire. Uno dei punti con l'accordo, l'accordo con la Turchia era che noi avremmo rimandato indietro, cioè l'Unione Europea avrebbe rimandato indietro le persone che arrivano, ma si sarebbe fatto un resettlement di rifugiati dalla Turchia verso l'Unione Europea, proprio perché le due cose non sono incompatibili. Anzi, la migrazione legale permetterebbe di dire, cioè il problema sono i traffici, il problema è l'illegalità, il problema è che non bisogna attraversare le frontiere in maniera irregolare e non bisogna permettere che si crei un'anarchia alle frontiere esterne, tutto questo crea problemi di sicurezza di cui altri relatori potrebbero parlare molto meglio di me. Posso dirvi che in Francia, per esempio, sono molto preoccupati. Adesso, per fortuna, da molto tempo non parliamo di terrorismo, ma i francesi sono molto preoccupati dalle conseguenze politiche dell'eventuale riemergere di atti terroristici, anche se poi va detto che tra un po' saranno i cinque anni degli attentati di Bruxelles, erano quasi tutte persone nate e cresciute qui e non venivano da fuori, ma insomma c'è una preoccupazione per gli eventuali impatti politici di nuove azioni. Il problema è trovare che non esiste una dinamica politica tale per cui sia facile vendere all'opinione pubblica il resettlement e poi vincere delle elezioni. Io aggiungo solo che dal mio punto di vista, io rifiuto un po' l'idea per cui il resettlement potrebbe essere un contrappeso sufficiente alla negazione del diritto d'asilo che si mette in atto con le politiche di esternalizzazione. Perché? Perché dobbiamo ricordare che il richiedente asilo, il rifugiato, ricordiamoci che tra l'altro si è rifugiati ancora prima di essere riconosciuti come tali. Quindi molte delle persone ad esempio che si trovano in Libio, che si trovano in Bosnia, possiamo immaginare che almeno una percentuale di loro sono dei rifugiati, perché sono persone che nel loro paese andrebbero incontro a persecuzioni o a pericoli derivanti da conflitti armati. Ebbene, l'unico modo di capire se queste persone sono effettivamente quello che dicono di essere, cioè dei profughi che non possono rientrare nel loro paese, è di esaminare la loro situazione individuale uno a uno. Questo si fa. L'esternalizzazione è volta a negare tutto questo, è volta a negare il diritto delle persone a chiedere, a rivendicare questo loro diritto. Il diritto di asilo che in Italia, ricordo, è anche una garanzia costituzionale, è un diritto umano fondamentale che nasce insomma dopo, viene riconosciuto nella Convenzione di Ginevra dopo la Seconda Guerra Mondiale, fa parte del patrimonio giuridico della cultura dei diritti umani che caratterizza a noi come Italia, come Unione Europea. L'esternalizzazione dice no. Le persone non devono essere messe in condizione di poter esercitare questo diritto d'asilo, che rimangano in Libia, che rimangano in Turchia, che rimangano in limine dell'Unione Europea, quindi a Lesbo oppure in un centro di preingresso al confine tra Serbia e Ungheria. Quindi anche a chi chiede, ma quindi queste persone sono destinate a rimanere lì? Sì, sono destinate a rimanere lì. Cioè è previsto la nuova proposta di regolamento, prevede questo, che le persone siano sottoposte a una procedura di pre-screening, quindi prima di fare ingresso nell'Unione Europea e che vengano confinate in questi centri. E se e solo se superano l'iter di pre-screening, allora possono eventualmente essere ammessi sul territorio e lì esercitare il diritto d'asilo. Noi però appunto finanziando questo sistema, così come finanziando le operazioni di intercettazione e respingimento da parte della Guardia Costiera Libica su tutt'altro fronte, cerchiamo di negare in radice questo approccio giuridico fondato sul rispetto ai diritti individuali. Cioè diciamo voi innanzitutto state lì, state in Libia, state in Turchia. Cosa succede in questi paesi? Tutto sommato non è affare mio, è un paese terzo, li trattano come li trattano. Finché sono là io non ho obblighi di gestire la loro situazione. Ecco, questa è riassunta malamente in poche parole la politica di esternalizzazione. Dire che il resettlement, cioè dare in modo discrezionale, perché il resettlement ricordiamoci non è una procedura giuridica normata in modo preciso, è una procedura discrezionale per cui le agenzie umanitarie possono dire, un EHCR in primis, possono dire ok tu, tu e tu, vi diamo un visto e potete andare in Canada, in America e in l'Unione Europea. Questo è il resettlement. Non è la stessa logica, come possiamo dire, non può costituire, cioè non possiamo pensare che un potenziamento dei numeri dei resettlement possano costituire un controbilanciamento a quella negazione appunto sistematica del diritto d'asilo che invece si attua con le politiche di esternalizzazione. Il resettlement è numericamente una procedura, per come la conosciamo oggi, molto limitata. È, ripeto, un tipo di meccanismo concessorio. Se una persona chiede di essere ammessa al resettlement e viene negato questo diritto non ha un meccanismo giuridico a cui appellarsi per rivendicare un proprio diritto, ecco non è un diritto il resettlement, d'accordo? Quindi è una misura umanitaria che viene attuata con meccanismi, peraltro, tutt'altro che chiari dalle agenzie, dall'UNHCR sostanzialmente. Non si sa sulla base di cosa effettivamente le persone vengano effettivamente scelte. Questo vale anche per i corridoi umanitari. In Libia ci sono delle vere e proprie distorsioni che sono collegate al resettlement, ad esempio nel momento in cui si dice che le persone che sono nei centri di detenzione possono accedere al resettlement, si è assistito a fenomeni di persone che cercano di entrare nei centri di detenzione dove vengono potenzialmente torturate pur di accedere ai meccanismi di resettlement. Ecco, non è, non fa parte, diciamo, non appartiene questo tipo di approccio a quella cultura giuridica fondata, ripeto, sui diritti fondamentali che invece dovrebbe essere propria di uno spazio che pretende di essere avanzato di rispetto ai diritti, quale è l'Unione Europea. Grazie, grazie molte. Ovviamente ci sarebbe moltissimo da parlare, di continuare, potremmo continuare, insomma, immagino per ore, ma comincerei invece appunto a avviarci verso le conclusioni dando quindi la parola a Luisa Chiodi. Vorrei prima di questo scusarmi a nome dell'onorevole Fassino che purtroppo non è riuscito a liberarsi in tempo, apparentemente a meno, insomma, di una comparsa dell'ultimo minuto ma che appunto comunque invia i suoi saluti. Do la parola a Luisa Chiodi per le sue conclusioni ed eventualmente, insomma, le sue riflessioni anche rispetto a quello che ha appunto ascoltato finora. Grazie. Grazie Raffaella, grazie a tutti i relatori, grazie al dottor Antonione per il suo sostegno in questo lavoro che per noi è, insomma, in corso d'opera. Avremo sicuramente modo di riparlare di tanti degli aspetti che sono stati tracciati oggi. Io così ho un difficilissimo compito che è quello di trarre delle conclusioni su temi così complessi. Vorrei sicuramente sottolineare tre, quattro nodi centrali di quello che è stato detto, quindi accogliendo le informazioni raccolte forse non andando in un ordine particolarmente coerente, però ci tengo a sottolineare l'importanza dell'idea suggerita da Migerina per ultimo del fatto che il concetto di sicurezza cambia, è cambiato nel corso del tempo, certamente c'è una certa avversione negli opinioni pubbliche occidentali verso la migrazione e l'accoglienza di nuovi migranti, però ci sono anche variazioni e varia il dibattito, la percezione del problema della sicurezza anche naturalmente in base alle scelte delle politiche del momento, oltre che naturalmente di fattori importanti. Chiaramente il Covid, la pandemia ha spinto a trasformare l'idea di qual è il nostro primo problema e insieme rispetto per esempio alla relazione con i Balcani non ci ha fatto ricordare se non marginalmente che lasciare i Balcani senza copertura vaccinale quando ormai avremo anche noi sarebbe probabilmente una visione mia e della nostra sicurezza. Allora, sicuramente abbiamo un'idea come il dottor Verdiglione ci ha sottolineato di un contesto trasnazionale e internazionale nel quale operare per garantire la sicurezza. Tra questo il lavoro di condivisione dei dati tra le forze di sicurezza. Io su questo purtroppo non possiamo avere una conversazione perché il mio ruolo era quello di trarre conclusioni però insomma ricorderei che sul tema della condivisione dei dati c'è frizione e complessità da tutti i lati e per molti versi c'è chi sostiene che la Croazia si comporti in modo così feroce nell'espulsione di chi cerca di attraversare il confine e di passare attraverso il proprio paese perché in realtà quasi nessuno di questi intende fermarsi in Croazia anche perché vuole farsi riconoscere come paese affidabile nel contrasto alla migrazione e quindi sarebbe probabilmente molto importante dare segnali contrari alla Croazia cioè che per entrare in Schengen dove la Croazia ancora non è sarebbe opportuno al contrario che il nostro vicino di casa si dimostrasse capace di rispettare le norme comuni che ci siamo dati in materia di immigrazione o meglio di domande di asilo certamente mettere in mano dati a paesi semi-autoritari come alcuni dei paesi candidati purtroppo stanno diventando candidati all'integrazione europea stanno diventando è chiaramente problematico e quindi anche su questo probabilmente una riflessione accurata va fatta da parte delle nostre autorità ma anche della nostra opinione pubblica sicuramente è importante ricordare come ha fatto il professor Pasquero di ciascuno di voi ovviamente perdonatemi ho raccolto uno dei tanti aspetti interessanti che avete voluto sottolineare ci tengo a mettere un'evidenza al tema della differenza tra traffico di esseri umani e favoreggiamento alla migrazione perché appunto si gioca molto nel dibattito pubblico su questa ambiguità della parola traffici e quindi i trafficanti vengono trattati sempre come appunto una minaccia per tutti quando non si tratta non commettono gli stessi reati nel momento in cui si stiano adoperando per appunto un traffico di esseri umani o quando sono invece dei passeur che è un contesto di scambio di interessi comuni tra chi ha bisogno di attraversare il confine e chi può dare loro l'opportunità di farlo pur violando le regole previste in ogni caso come dire non commette la stessa gravità di crimine in realtà appunto bisogna ricordarsi che mentre si commette il crimine dell'attraversamento illegale del confine si commette anche il crimine di non autorizzare chi avrebbe diritto di presentare la domanda d'asilo a farlo propriamente questo contesto nel quale ad essere ambivalenti o ambigui sul rispetto dello stato di diritto purtroppo troviamo esserci anche i nostri paesi voglio su questo quindi osservare e concludere con ulteriori due note l'opinione pubblica italiana negli ultimi mesi si è risvegliata sul tema della solidarietà nei confronti di chi cerca di attraversare il confine in particolare di fronte alle immagini che venivano dal campo di Lipa in Bosnia e Herzegovina si è osservato un grande interesse mediatico e anche una grande risposta della società civile italiana che è sembrata tornare ai tempi nella quale aveva molta meno paura dell'altro e molta più voglia e interesse e passione e desiderio civico di condividere in maniera di condividere la propria di essere solidale quindi di dare una mano a chi si trovava in condizioni così estreme come quelle della Bosnia di dicembre o di oggi a questa realtà a questa solidarietà che gli italiani hanno voluto esprimere verso la Bosnia naturalmente insomma va sottolineato la potenza di questa nuova ondata positiva verso un paese che ha ancora moltissime fragilità è difficile immaginare che è un paese che ancora sta pagando il prezzo di una guerra avvenuta chiusa solo 25 anni fa però con una situazione economica disastrosa con un contesto istituzionale estremamente fragile noi in qualche modo dobbiamo una condivisione di oneri ecco su questo è interessante è stato importante vedere questa trasformazione dell'atteggiamento dell'opinione pubblica italiana e quindi questa rinnovata ondata di solidarietà che si è potuta vedere questo naturalmente oggi sembra di nuovo a rischio perché il problema di associare azioni di polizia nei confronti di chi appunto si come dire chi viene accusato di traffici illeciti e in questo caso appunto di essere di favorire la migrazione illegale e chi invece presta solidarietà verso i i cittadini di Afghanistan Siria o o che voglia che si trovano ad arrivare sul nostro territorio e in condizioni veramente pietose spesso per essere passati attraverso le violenze e l'illegalità della polizia croata evidentemente questa solidarietà criminalizzarla è alquanto problematico e rischierebbe e sta rischiando di come dire far tornare di nuovo l'opinione pubblica italiana in un contesto di paura invece che di solidarietà proprio perché l'idea di sicurezza cambia a seconda del contesto a seconda di dove le autorità del politico istituzionale del nostro paese in qualche modo si impegnano ad orientare è stato comunque molto interessante vedere sui media italiani una serie di risposte alle indagini che sono in corso dove appunto la messa in discussione del rischio di criminalizzare la solidarietà associandola al favoreggiamento all'immigrazione clandestina è emersa con forza naturalmente tutti quanti alla nostra sicurezza teniamo e sicuramente senza alcun dubbio esistono rischi che in qualche modo sulle rotte di immigrazione possano trovarsi fonti di pericolo per la nostra incognomità naturalmente la cosa più sensata e importante sarebbe evitare una strumentalizzazione di eventuali reti criminali che esistono sono esistite ed è vero che si sono alimentate negli anni della guerra e si alimentano oggi per le barriere che imponiamo al diritto all'immigrazione e allo stesso tempo sono soltanto un pezzo del fenomeno delle relazioni che intratteniamo con questi paesi verso i quali un tempo volevamo esportare la democrazia e diritti umani e invece di fronte a questa gestione della migrazione con sempre maggiore frequenza stiamo esportando instabilità e appunto grande difficoltà politica nella gestione di un fenomeno che noi stessi facciamo così fatica ad affrontare grazie 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 molte e ringrazio Luisa Chiodi per queste conclusioni per aver insomma appunto tirato le fila ringrazio tutti i relatori ancora l'Ince e tutti coloro che hanno appunto seguito i lavori e ci riaggiorniamo probabilmente per il prossimo seminario per cui non abbiamo ancora una data precisa ma che verrà diciamo pubblicizzato appunto sulle pagine del CESPI e del territorio Balcani Caucaso e dell'Ince insomma nel prossimo mese grazie a tutti e arrivederci grazie arrivederci a tutti grazie grazie a tutti